L'aeroporto di Palermo rappresenta sicuramente l'ingresso principale al nostro territorio trovandosi appunto nella parte occidentale della Sicilia. Questo è un progetto che parte da molto lontano, noi il distretto turistico ha cominciato a fare la promozione di Agrigento Capitale della Cultura già all'indomani della sua designazione perché chiaramente il nostro obbligo statutario è quello di promuovere il nostro territorio e un evento così importante al centro della Costa del Mito non poteva che essere la punta di diamante della nostra attività. Un'attività che chiaramente poi si è svolta nelle fiere e in tante altre iniziative, questa è soltanto l'ultima, e che chiaramente si va a incardinare con quelle che sono le attività del Comune di Agrigento e soprattutto della Fondazione. Noi siamo partner in questo senso del territorio e ci fa piacere questa volta poterlo essere anche insieme all'aeroporto di Palermo che con i suoi oltre un milione di passeggeri sicuramente sarà una vetrina d'eccezione per Agrigento Capitale della Cultura e per tutta la Sicilia e per tutto il nostro territorio distruttuale. Ho avuto il privilegio di incontrare il sindaco di Agrigento Miciche alla BIT e lì è nata questa idea. Sembrava un'idea un po' strampalata, un po' forse avventuriera, un po' forse prematura, però poi come sempre le cose si camminano sulle gambe degli uomini e oggi siamo qui a lanciare questa idea di mettere l'aeroporto di Palermo e il suo patrimonio di passeggeri a disposizione di una grande causa, Agrigento Capitale della Cultura. Da domani sui led wall dell'aeroporto Falcone e Borsellino, sia quelli in arrivo che in partenza, sarà possibile visionare questo video che promuove un patrimonio culturale di grande valore come Agrigento e tutto il suo programma di iniziative per il 2025. Agrigento 2025 si promuove attraverso l'aeroporto di Palermo, come, in che modo? Per la prima volta in un aeroporto ci saranno contenuti senza pubblicità, nel senso che ogni singolo passeggero sarà libero di poter fluire dei contenuti del territorio e per la prima volta un territorio si racconta senza interazioni esterne. Quindi direttamente tramite il link che le persone troveranno nei bar, nei punti di ritrovo, potranno avere la possibilità di entrare con un semplice QR e da lì praticamente seguirsi il loro programma di intrattenimento, di promozione turistica del territorio. Quindi potranno vedere la Valle dei Tempi, potranno vedere il centro di Sicilia, potranno vedere la settimana santa in prossimità alla settimana santa, oppure prepararsi la vacanza per la settimana santa, oppure i presepi di Sicilia collegati chiaramente al territorio della Valle dei Tempi e di tutta la Sicilia. Sì, ringrazio il Presidente Burrafato, il Presidente della GESA per aver accolto la nostra richiesta, io in qualità di sindaco ma anche in qualità di Presidente dell'ADMO di Sottoturistico di Agrigento. Abbiamo sposato in pieno questa iniziativa, quella di far promuovere, di far conoscere, diciamo, ai turisti in transito, all'aeroporto di riparo, ma proprio la nostra città in virtù di Agrigento e Capità della Cultura del 2025. Verranno proiettati dei video, video che dureranno intorno ai 25 secondi, poi ci saranno anche QR code, ci saranno anche delle brochure da poter distribuire, quindi affinché Agrigento possa rientrare tra le mete preferite dei turisti che verranno in Sicilia. A che punto è? Agrigento 2025? Progetti? Sì, i progetti sono già in cantiere, penso che entro la metà del mese di settembre presenteremo anche un programma affinché a fine settembre il Ministro San Giuliano possa avere proprio una mappa ben betisa e dettagliata del 2024 ma anche del 2025.